Ciao a tutti, bentornati! Oggi parliamo degli assiomi 4, 5 e 6 della teoria di Zermelo Frenkel. E questi assiomi ci permettono di fare varie costruzioni importanti con gli insiemi e soprattutto ci permettono di andare verso gli assiomi 7, 8 e 9 che sono i più carnosi. Ma prima di cominciare iniziamo con un piccolo riassunto di quello che abbiamo visto negli assiomi 1, 2 e 3 così che chi non ha visto i video può seguire il video di oggi e chi li ha visti fa sempre bene un piccolo ripasso. Cominciamo con il riassunto. Vi ricordo che la sioma 1 dice che due insiemi sono uguali se e solo se hanno gli stessi elementi. Fondamentalmente questa è la definizione di uguaglianza. La sioma 2 dice che non può esistere una catena infinita di insiemi, a 1, a 2, a 3, a 4 eccetera, tali che a 1 ha come elemento a 2, che ha come elemento a 3, che ha come elemento a 4 e così via per sempre. Questo non deve e non può succedere. E la sioma 3 di specificazione è una sioma molto importante perché ci dice che se abbiamo una formula fi e abbiamo un insieme A, è possibile costruire il sottoinsieme B di tutti gli elementi di A che soddisfano fi. Questo è la sioma di specificazione. E allora veniamo alla sioma 4, il primo assioma che vediamo oggi. E non ci crederete ma dice una cosa molto semplice. Dice che se hai due scatole di Amazon puoi infilarle dentro a una scatola più grande. Giuro, dice questo. Vabbè, in maniera un pochino più formale che ora vi faccio vedere. Vediamo allora la sioma 4 o assioma della coppia detto a parole. Se hai due insiemi A e B puoi creare un nuovo insieme i cui unici elementi sono A e B. Quindi posso creare l'insieme C i cui elementi sono solo A e B. Per ogni A e per ogni B esiste C, tale che per ogni elemento X, X appartiene a C, se e solo se X è uguale A o X è uguale a B. E già che ci siamo vi faccio notare che con la sioma della coppia non è solo possibile costruire insiemi con due elementi, ma anche insiemi con un elemento solo. Perché se considero l'insieme A accoppiato con l'insieme A, considero cioè l'insieme A e A, allora posso costruire l'insieme X i cui elementi sono A e A, usando la sioma della coppia. Ma questo insieme è indistinguibile dall'insieme che ha solo l'elemento A, perché in base all'assioma 1 due insiemi sono diversi solo se hanno degli elementi diversi. Quindi in questo modo posso costruire l'insieme che ha come solo elemento A. Vale la pena ricordare che quello che abbiamo definito sono le coppie senza ordine, perché l'insieme che ha gli elementi A e B è la stessa cosa dell'insieme che ha gli elementi B e A. E allora se invece voglio considerare le coppie con ordine, cioè le coppie in cui l'ordine conta, vorrei che fosse vera la proprietà caratteristica delle coppie con ordine, cioè che se ho due coppie A e B e C e D, queste sono uguali se e solo se A è uguale a C e B è uguale a D. E allora possiamo chiederci come posso definire le coppie con ordine se per le mani ho solo gli insiemi e gli assiomi. Premete pausa se volete pensarci un secondo perché adesso vi do una delle possibili definizioni di coppia ordinata. Eccola qua. Una coppia ordinata con gli elementi A e B è l'insieme che ha come primo elemento A e come secondo elemento l'insieme con A e B. Questa è una possibile definizione di coppia ordinata. E lascio a voi da dimostrare che questa definizione di coppia ordinata soddisfa la proprietà caratteristiche delle coppie, che è quella che abbiamo appena scritto. E attenzione perché nella dimostrazione sarà necessario l'uso dell'assioma 2. Scrivete la vostra dimostrazione nei commenti se riuscite a trovarla. E allora andiamo con l'assioma 5. L'assioma 5 dice che se ho un barattolo pieno di barattoli di caramelle, eccoli qua, posso buttare via i piccoli barattoli di caramelle e lasciare che le caramelle si mescolino dentro al barattolo grande. Questo è l'assioma 5 e al solito vediamolo come si scrive a parole. Assioma 5 o dell'unione. Se hai un insieme F, detto anche famiglia, i cui elementi sono insiemi, allora puoi creare l'insieme i cui elementi sono tutti gli elementi di tutti gli insiemi in F. Vediamo come si scrive in maniera formale. Per ogni F esiste B, tale che per ogni X, X appartiene a B se e solo se esiste un insieme A in F e X appartiene ad A. Questo insieme B lo si scrive come unione sull'insieme F o anche unione di tutti gli elementi A di F. E allora mi chiedo, posso fare l'unione di due insiemi qualunque A e B? E la risposta è sì, perché in base all'assioma 4 posso mettere questi due insiemi dentro a un insieme più grande e quindi adesso posso fare l'unione sull'insieme F e ottenere l'unione fra A e B. E adesso vediamo un'animazione carina che ci fa vedere che con gli assiomi che abbiamo fino a qua possiamo costruire gli insiemi finiti. Supponiamo di avere tre elementi ABC e di voler costruire l'insieme con questi elementi. In base all'assioma 4 posso costruire l'insieme con gli elementi A e B e l'insieme con il solo elemento C e in base all'assioma 4 posso costruire l'insieme che ha questi insiemi come elementi. Adesso applicando l'assioma 5 posso creare l'unione su questo insieme e ottenere l'insieme con gli elementi A, B e C. Se adesso ho un altro elemento D posso costruire l'insieme con il solo elemento D e se lo metto in coppia con l'insieme precedente posso applicare l'assioma 5 e ottenere l'insieme con gli elementi A, B, C e D. E ovviamente posso continuare a ripetere il processo un numero finito di volte. Se ho un elemento E lo posso mettere in coppia e posso fare l'unione eccetera eccetera e creare così insieme con un numero finito di elementi. E posso continuare così per quante volte voglio, non ci sarebbe bisogno di andare avanti ma le animazioni di Manim sono molto carine e quindi la lascio correre per un altro pochino. Eccola qua. Faccio notare che quello che abbiamo fatto è dimostrare che si possono costruire gli insiemi finiti. Non si possono invece costruire insiemi infiniti con questo metodo perché un processo che si ripete un numero infinito di volte non è più una dimostrazione. Una dimostrazione deve avere un numero finito di passi. Dato che è stato necessario usare una sioma per le unioni qualcuno potrebbe pensare che serva una sioma per le intersezioni ma non è così perché se ho due insiemi A e B allora abbiamo già visto che usando la sioma 4 e poi la sioma 5 sono in grado di definire l'unione fra A e B. Ma adesso che ho definito l'unione fra A e B posso anche definire l'intersezione come l'insieme i cui elementi sono tutti gli elementi X che appartengono all'unione con la proprietà che devono appartenere sia ad A che a B. Questa è una formula FIDX e quindi quello che sto facendo è usare la sioma 3 per definire l'insieme intersezione. Questa definizione la posso dare anche più in generale per un insieme qualunque, una famiglia qualunque di insiemi purché non sia vuota. Se ha una famiglia qualunque di insiemi A, B, C, D, E eccetera posso definire l'intersezione come l'insieme degli elementi X che appartengono ad A e che appartengono anche a tutti gli altri elementi della famiglia. Vediamo allora cosa dice la sioma 6. Ah, qui tra l'altro ho il catalogo di tutti i libri che non contengono una foto di se stessi. Non ci serve più ma è un bel libro del 1901, leggetelo. Invece per la sioma 6 ci servono due barattoli e nel primo barattolo ho dei cioccolatini incartati e la sioma 6 dice che posso aprire i due barattoli, posso prendere i cioccolatini dal primo barattolo, eccolo qua uno posso scartarli tutti, vediamo se ci riesco, sono un po' sciolti perché fa caldo posso scartare un cioccolatino e metterlo nel secondo barattolo e posso continuare così fino a trasferire tutti i cioccolatini dal primo barattolo al secondo barattolo ogni volta scartandoli. Questo è la sioma 6 ma vediamolo in maniera un pochino più formale. Assioma 6 o del rimpiazzamento. Se hai un insieme A e una regola f di x che a ogni insieme x associa un insieme f di x allora puoi sostituire ciascun elemento x di A con la sua immagine f di x. In altre parole esiste l'insieme B i cui elementi sono tutti gli f di x con x che varia in A. Vediamo allora la sioma 6 in maniera formale. La sioma 6. Se f è una funzione, per ogni A esiste un insieme B i tale che per ogni elemento y, y appartiene a B i se e solo se esiste un elemento x in A, tale che f di x è uguale a y. Quindi, in poche parole, B è l'insieme delle immagini degli elementi di A. Questo è la sioma 6. Facciamo allora un esempio di uso della sioma 6. Se ho un insieme con gli elementi A, B, C e D e considero la funzione f che a ogni x associa l'insieme con il solo elemento x, posso applicare f all'insieme A e ottenere l'insieme B con questi elementi. Ovviamente questo potrei farlo anche senza usare la sioma 6 perché si tratta di un caso finito, ma se per esempio considero l'insieme dei numeri naturali, che ancora non abbiamo definito, se considero l'insieme dei numeri naturali, posso applicare f all'insieme dei numeri naturali e ottenere questo nuovo insieme. E questo non sarebbe possibile senza la sioma 6. E parlando di insiemi infiniti, dobbiamo dire una cosa importante. Ancora non sappiamo se esistono gli insiemi infiniti, o meglio, ancora non sappiamo se esistono gli insiemi. Non sappiamo neanche se abbiamo un insieme per le mani, non sappiamo neanche se esiste l'insieme vuoto. Non abbiamo nessuna sioma che ci dica che gli insiemi esistono. Questa situazione sarà risolta con la sioma 7, l'importante assioma 7 che vedremo nei prossimi video. E prima di finire vorrei salutare Silvano Mattioli, prof di mate online, Gad Hel e Luciana Licchelli che hanno lasciato commenti molto carini. E se anche tu sei arrivato alla fine del video, puoi lasciare un commento che finisca per Q e D e ne sceglierò alcuni da salutare la prossima volta. E con questo è tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao!